La partita che mi aspettavo? No, non è una partita che speravo, ma onestamente io speravo che l'atteggiamento iniziale fosse quello, quindi con grande rispetto per l'avversario, per il momento che stava passando e di metterci un attimo nelle loro condizioni a livello atletico e mentale e che nella certezza di avere qualcosina in più sicuramente sul piano tecnico, quindi aver approcciato bene, aver avuto due occasioni a fare gole ha portato la partita sicuramente sui binari giusti, ma questo l'abbiamo fatto noi, non ci ha regalato niente nessuno, quindi bisogna dare atto che la partita vedendo il risultato finale può sembrare semplice, ma siamo stati bravi noi a portarla su questi binari. Credo che sia importante sottolineare questo. Ha trovato le risposte che cercava dal cambio di modulo tattico che si è visto dall'inizio? No, nel senso che noi lavoriamo sempre su un paio di situazioni, quindi non cambia tanto per noi giocare a tre o quattro, perché ci lavoriamo sempre, è chiaro che ci sono partite dove si può fare questo e altre secondo me dove non si può fare. Se abbiamo dei giocatori si può fare, se non li abbiamo non si può fare. Quindi è molto su quello che andiamo ad affrontare, sui giocatori che ho a disposizione. Oggi non avevo a disposizione determinati giocatori che mi hanno portato a cambiare. A cambiare, bene, sapevo che comunque la prestazione l'avremmo fatta. Dopo è chiaro che si può sempre andare comunque in difficoltà e se vado a guardare il pelo nell'uovo, in un paio di situazioni siamo stati un po' sufficienti, qualche pallone perso anche perché rischi di riaprire le partite che sono già chiuse, invece siamo stati bravi a fine primo tempo a chiuderla e nel secondo tempo a mettere il marchio e non dare più adito a nessuno di riaprire la partita. Ho potuto anche fare dei cambi, far respirare qualcuno, vedere qualcun altro. Sicuramente è una serata molto, molto positiva. Comissario, non c'è stata storia in questa partita, la regione ha dimostrato tutta la sua forza, ma si aspettava un teramo diverso? No, mi aspettavo un teramo onestamente, che non è partito male, è partito forte, ma siamo partiti più forti noi. Ma eravamo preparati a questo, ho visto anche la formazione iniziale che ha fatto il mister, loro mi davano la sensazione di una squadra combattente, di corsa, di corsa. Io li ho preparati a questo, a una squadra che avrebbe aggredito, di essere bravi nelle ripartenze, perché sappiamo che è una squadra del teramo che attacca in tanti uomini e potevamo, come poi è successo, mettere in difficoltà anche nelle ripartenze. Non sempre si può dominare le partite. La grande squadra deve avere anche l'umiltà a volte di saper aspettare e colpire al momento giusto, come è stato magari con l'Entella per quanto ci riguarda. È chiaro che il teramo in questo momento vive un momento di disequilibrio, immagino, ma non entro in queste dinamiche perché non mi competono. Quindi noi siamo stati bravi a fare quello che dovevamo fare noi. Stop.